Ciao ragazzi, sono appena partito, sono andando a Torino, va tutto bene, ci vediamo fra poco Sono appena arrivato a Torino, non ho perso nulla Ho appena messo un nuovo, c'è un nuovo amico tipo Wilson in Castaway, ci vediamo dopo Buongiorno marinai, ieri sera sono arrivato a Torino, poi sono successe delle cose Ora sto andando al campeggio per montare tutto perché stasera si suona allo Sherwin Bene ragazzi è arrivato il momento della rubrica cosa mangia Francesco oggi Ora andrò a riempire l'acqua lì e me la cucinerò qui, mi farò una bella pasta al ragù Ho appena finito di cucinare Ragazzi come primo giorno sto andando a suonare in via Roma, ho preparato tutto Stasera ho la serata allo Sherwood, sto andando a suonare su via Roma Sono in questo parco bellissimo Ragazzi ho montato tutto Ragazzi non si è a suonare Ragazzi ha divertito di cucinare Alza il mario, Torino è vuota senza te stanotte, stanotte, stanotte Ho finito la serata, è andata molto bene, ma Torino è bella di notte, davvero di notte Buongiorno ragazzi, questa è la mia tetta Ragazzi sto partendo da Torino, prossima tappa Genova Ragazzi oggi vi farò vedere come si apre una noce di conca Vedete questi tre pallini qui, ce n'è uno di questi che è sempre il più morbido Quindi prendete una punta e lo aprite Ora dovrebbe uscire il succo Finito Ora tocca solo spaccarla Vabbè a spaccarla non ci vuole niente, basta prendere una parte dura e si spacca Buonissimo Grazie a tutti Grazie a tutti